La puntata di oggi dello sportello del cittadino è riservata all'Adoc Puglia. Ci occupiamo di integratori alimentari. Tutti ci saremo imbattuti con gli integratori alimentari e allora cerchiamo di capire cosa sono, a quale funzione assolvono, quando possono essere nocivi. Ne parliamo con Serena Acconciaioco, volontaria del servizio civile. E allora, innanzitutto, cosa sono questi integratori? Allora, gli integratori alimentari sono delle sostanze nutritive. Questi prodotti vengono prescritti solamente da specialisti. Al giorno d'oggi noi abbiamo tantissimi nutrizionisti che li consigliano per determinati fabbisogni. Però un surplus di queste sostanze sono altamente dannose per il nostro corpo, provocando dei piccoli danni come diarrea, crampi addominali, nausee, eccetera. Invece, per quanto riguarda il nostro interno, come a livello epatico-renale, abbiamo dei seri problemi. Questi integratori comunque hanno una regola vigente grazie al decreto ministro europeo. Direttiva 2246, cosa ci dice questa? Che obbliga lo stato in cui viene prodotto ad un'etichettatura precisa e perfetta, dove c'è scritta la data di scadenza, le dosi, le cause, gli ingredienti, il produttore. Per concludere, in buona sostanza, l'integratore fa bene. Tutto sta però nel saperlo usare nelle dossi giuste. Perfetto, deve essere usato in modo corretto. Poi vediamo anche che questi integratori possono essere acquistati ovunque, sia nella farmacia, parafarmacia, in erboristeria, negozi sportivi, ovunque. Il costo varia dai 15 a 60 euro, dipende dalla formulazione e dagli ingredienti che sono stati utilizzati.